284 giorni dopo il suo addio Zidane torna al Real per sostituire Solari. Non potevo dire di no al presidente, ha detto il francese. Con grande sofferenza la Roma bate l'Empoli e resta in scia dell'Inter. Ranieri però sottolinea che dovremo subire meno in difesa. Dopo il pari con la Fiorentina si fa dura per la Lazio agganciare il quarto posto. Il presidente Lottito comunque ci crede, ce la giochiamo con tutti. Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da trattare, allora vado subito a salutare Gaetano Mocciaro, benvenuto. Ciao Lorenzo, buonasera. Un saluto al Caramontode Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Come avete sentito e avete visto dai nostri titoli, Zidane torna al Real Madrid dopo l'addio di quest'estate. Ha detto in conferenza stampa Zidane, non potevo dire di no al presidente. Certo è che si è preso una bella patata bollente. Sì, una scelta sorprendente. Anche perché tutti gli indizi delle ultime settimane portavano a uno Zidane che solo al termine della stagione calcistica avrebbe poi deciso il suo futuro è di una Juventus che era in pollo in vantaggio rispetto al Real Madrid. Poi di fatto Florentino Perez in piena bagarre con un Real Madrid che è sprofondato nelle ultime settimane, fuori dalla Coppa del Re, fuori dalla Champions League, fuori dai giochi anche in Liga. Ha richiamato Zidane e ha sottoposto al francese un contratto davvero importantissimo. Più di 15 milioni di euro netti a stagione fino al 2022. A quel punto Zidane, che ha ricevuto anche garanzie di rifondazione per la prossima stagione, quelle che evidentemente non erano arrivate la scorsa estate, ha detto sì al Real Madrid. Ha accettato di tornare già adesso. Ma è chiaro che ora c'è un obiettivo minimo che è riqualificare il Real alla prossima Champions League, arrivare tra le prime quattro e poi sarà lui, il francese, a orchestrare una campagna acquisti che secondo me sarà faraonica come non si è visto negli ultimi sette, otto anni. Eh sì, quest'estate partirà la rivoluzione, si parla di grandi nomi, potrebbe partire Bale, potrebbero arrivare, almeno questi sembrano essere gli obiettivi, Mbappé, Pogba, Hazard. Sì, sicuramente, Zidane a carta bianca, a carta bianca se no non sarebbe tornato, è un gruppo che è arrivato alla fine di un ciclo, secondo me ha vinto anche l'ultima Champions per inerzia, non era già più, secondo me, la squadra più forte d'Europa, ma evidentemente l'esperienza europea poi ha fatto sì che avesse la meglio sul Paris Saint Germain, avesse la meglio sul Liverpool, avesse avuto anche fortuna poi con la Juventus, insomma la buona sorte ha dato una mano al Real Madrid, per cui adesso in estate il Real tornerà a spendere come ha fatto, diciamo, dalla fine della prima decada del 2000 fino al 2014, perché poi alla fine l'ultimo acquisto realmente galactico è dopo il Mondiale del Brasile con l'arrivo di James Rodriguez, poi lì piano piano è stata puntellata, una squadra comunque già eccellente, quindi io credo che si rivedrà una campagna acquisti come quella del 2009, quando Stufi di 6 eliminazioni consecutive agli ottavi arrivarono nella stessa estate Kakà, Cristiano Ronaldo, Benzemaccia, Bialonso, il prossimo anno arriverà sicuramente Eden Hazard perché è in rotta con l'ambiente Chelsea, a prescindere da Sarri, comunque vuole andare in una big non reputa più il Chelsea una squadra simile, credo che lo stesso Neymar o Mbappé, ma più Neymar sia già stufo di Parigi, dell'eliminazione degli ottavi di finale, di un torneo come quello francese che è ben poco allenante e poi arriveranno sicuramente altri giocatori, credo Eriksen a questo punto che è uno dei centrocampisti in questo momento più forti al mondo, c'è Modric che a compiere a 34 anni va sostituito, per cui credo che anche il danese possa essere la soluzione, poi questo famigerato problema del centramanti che ci trasciniamo con Benzemaccia, a questo punto penso che uno tra Harry Kane e Lewandowski possa vestire la camisetta blanca, quindi sarà sicuramente rivoluzione e grandissime cifre investite. Insomma, hai fatto un'analisi approfondita del Real Madrid di quello che potrà diventare la squadra di Zidane, adesso però sentiamo anche l'opinione di Antonio Di Gennaro che è intervenuto da RMC Sport, parlando di Zidane, della scelta del francese di tornare a guidare il Real. Io sinceramente sono rimasto sorpreso perché quando giustamente lui è andato via dopo aver vinto, come dicevi, tutto, diciamo, io ho vinto il Champions in due anni e mezzo, perché quelli che hanno vinto la prima, poi gli altri due in maniera… Cioè è impossibile fare di meglio, Antonio? Sì, però cambierà tutto, credo che ci sia, sarà sicuramente, avrà avuto anche delle assicurazioni a livello proprio di mercato, di campagna acquista, perché credo che ci sarà una profonda, insomma, una ripartenza a livello proprio di organico, uno svecchiamento anche e quindi in questo avrà avuto carta bianca, come giusto che sia, perché, avete detto bene, Zidane gode da parte dei tifosi, da parte dei media, da parte dei calciatori, che ha visto bene perché sa gestire, ha gestito perché sembrava un traghettatore quando è arrivato, invece da grande, grandissimo fuoriclasse che è stato, ha saputo gestire i fuoriclasse che ci sono o che c'erano, vedi Cristiano Ronaldo nel Real Madrid e in questo è fondamentale come ha fatto anche Ancelotti e come per certi adesso ha fatto Mourinho, che deve fare un allenatore che arriva in un club che ovviamente sa di gestire non soltanto uno, ma tantissimi campioni, quindi avrà calcolato la situazione, tre anni anche per riempire un ciclo, quello che insomma sappiamo il Real Madrid vuole sempre fare soprattutto, non per la Liga, ma soprattutto che la Champions League loro vivano per questa cosa. Ha detto Florentino Perez, durante la presentazione di Zidane torna ad allenare il Real, il miglior allenatore del mondo, è chiaro che Zidane ha vinto la ripetizione, però poi per un'affermazione del genere probabilmente bisognerebbe vedere Zidane all'opera in altri contesti. Beh però è sicuramente il miglior allenatore per il Real Madrid, l'ha dimostrato negli ultimi anni, nove trofei vinti in due anni e mezzo su 13 disponibili, soprattutto tre Champions League consecutive, non c'è dubbio che i risultati alla mano è così nell'ultimo quinquennio, ma non solo, Zidane è stato il migliore, è chiaro che non parliamo di Guardiola per idee di gioco, per come ha plasmato negli anni nelle sue squadre, ma per vittorie e per continuità di vittorie Zidane è stato anche superiore a Guardiola negli ultimi anni e è stato superiore un po' a tutti, perché nessuno ha ottenuto così tanti trofei, anche molto prestigiosi in così poco tempo. E quindi dal punto di vista del Real è l'allenatore migliore, non a caso anche a Mourinho, che poteva essere un'alternativa, ed è stata un'alternativa in questi giorni per la panchina del Real Madrid, è stato detto che Zidane, è stato detto proprio da Florentino Perez, che di fatto di Zidane era la prima scelta e che il portoghese era solo la seconda scelta. Ora, dire a Mourinho che è una seconda scelta fa un po' specie per quanto ha fatto, ha vinto negli ultimi anni. Però non c'è dubbio che Zidane, numeri alla mano, si è rivelato il miglior allenatore possibile per il Real Madrid. E quindi per Perez, giustamente, lui era la prima scelta, ha fatto di tutto per far tornare Zidane alla guida dei Blancos, gli ha fatto sottoscrivere un contratto davvero importantissimo, sono le cifre che guadagna Guardiola al Manchester City, per intenderci, e quindi a quel punto Zidane ha deciso di tornare. Torneo in Italia adesso e occupiamoci delle parole del Presidente della FIGC, Gravina, che ieri era presente all'inaugurazione del Torneo di Vereggio, è stato anche premiato e ha parlato della nostra nazionale, considerato che si avvicinano gli impegni per gli azzurri, le qualificazioni agli europei. Sentiamo Gravina. Le sensazioni devono essere necessariamente positive. Stiamo lavorando, devo dire, stiamo lavorando tantissimo in tutti i campi che comportano sacrifici per il rilancio della credibilità del calcio italiano. Un risultato positivo ci aiuta ancora di più, ci dà entusiasmo, ci dà stimolo per migliorare. Quindi noi ci aspettiamo un risultato utile per portare avanti questi progetti, sapendo che la strada è sempre difficile, dietro l'angolo ci sono sempre tante insidie, però le mie sensazioni sono sensazioni positive, perché vedo l'entusiasmo di questi ragazzi che hanno davvero voglia di lavare con grande capacità, con grande professionalità, quella grande macchia che purtroppo ha colpito tutto il calcio italiano nella mancata qualificazione al mondiale in Russia. Aspettava un campionato più competitivo, anche se chiaramente non è ancora terminato, però dal punto di vista proprio dello scudetto si aspettava una lotta diversa? Io credo che l'Italia in questo momento rispecchia fedelmente quanto sta avvenendo a livello internazionale. Ci sono altre realtà molto simili, anzi identiche, basta guardare un po' in Germania, in Francia, il calcio europeo ormai è così proiettato, bisogna capire quali possono essere le modalità per rendere ancora più competitivo il campionato, accorciando quelle distanze che purtroppo oggi si dimostrano sempre più forti, più evidenti e quindi noi dobbiamo lavorare sotto un profilo di idee e di progetti per accorciare questo impatto, che non è un patto che si risolve solo a livello nazionale. Forse bisogna cominciare a ragionare anche nell'ottica di sviluppo di una importante politica internazionale. Vedremo quali soluzioni verranno trovate, non soltanto dalla FIGC ma evidentemente anche dalle altre federazioni. A questo punto però parliamo della Roma, la Roma che ieri ha battuto l'Empoli, buona la prima per Ranieri ma tanta fatica per i giallorossi, tra l'altro nel finale è stato anche annullato un gol all'Empoli e sarebbe stato un altro passo falso per la Roma perché un pareggio non sarebbe servito a niente alla squadra di Ranieri. Assolutamente, buona la prima solo per il risultato, oltretutto non c'è ovviamente ancora l'impronta di Ranieri perché ovviamente è una squadra che è andata avanti per inerzia. Oltretutto c'erano tantissimi infortunati, tanti indisponibili. Tanti indisponibili, c'era questa attenuante, è stata molto fortunata la Roma ma l'importante poi era portare a casa i tre punti e la Roma devo dire al di là di tutto è veramente molto ma molto fortunata in campionato perché ha vinto con grande fatica con l'Empoli, ha vinto recentemente in extremis contro il Frosinone, ha vinto non meritando contro il Bologna e a furia di vincere senza meritare è ancora agganciata al treno della Champions League. Questi comunque sono anche segnali positivi perché Ranieri adesso ha modo di lavorare sia sulle teste dei giocatori, può dare veramente la scossa alla squadra e quindi può anche portare effettivamente dei risultati anche a livello di gioco e permettere alla Roma di crescere in questo finale di stagione che è veramente importantissimo. Ecco, una Roma che continua a prendere gol, è una Roma che ha detto Ranieri dovrà cercare di limitare questo problema, dovrà lavorare molto il nuovo tecnico giallorosso sotto questo profilo, è anche vero che la Roma probabilmente risente dei problemi a livello mentale, è una Roma che ancora gioca con un po' di paura addosso? Quello senza dubbio, però Ranieri ha subito centrato il punto perché se analizziamo i numeri della Roma, i numeri ad esempio del Milan in questo 2019 siamo su piani completamente molto diversi. Il Milan in questo momento ha fatto della difesa il suo punto di forza e la Roma invece difficilmente chiude una partita senza subire gol, ma è proprio tutta la fase difensiva che in questo momento non funziona, ma anche la stessa Inter che ha tante difficoltà, l'abbiamo vista, che stenta dal punto di vista del gioco, che chiaramente risente anche del caso Icardi e dal punto di vista difensivo mi sembra una squadra superiore a questa Roma. E' questo il problema principale della squadra giallorossa, che come sottolineava Ghetaro si trova lì per chi comunque riesce a ottenere le sue vittorie anche soffrendo, anche in maniera fortunosa ed è chiaro che questo è un segnale positivo perché questo vuol dire che la Roma può solo crescere, però non puoi pensare di arrivare così fino a maggio. Quindi chiaramente questa Roma deve migliorare, Ranieri deve migliorare questa Roma, altrimenti tornare in Champions il prossimo anno sarà davvero difficile. Restando a Roma e parlando della Lazio, pareggio inutile quello contro la Fiorentina, quello di domenica sera, una Lazio che a questo punto vede complicarsi la lotta per il quarto posto, fermo restando, comunque c'è per i biancocelesti una partita da recuperare, quella con l'Udinese, però rimane comunque difficile la scalata a questo obiettivo. Sì, rimane difficile anche perché il calendario al di là della partita con l'Udinese che sulla carta potrebbe portare i tre punti, la Lazio è nettamente superiore ai friulani, ma è un calendario non troppo facile per i biancocelesti, una squadra che va troppo a corrente alternata, anche quando gioca bene le manca il cinismo per chiudere la partita, quindi evidentemente manca quella malizia che poi ti fa fare il passettino in più, che ti permette, che l'è costata poi alla Lazio l'anno scorso la qualificazione alla Champions League, le è mancata veramente l'esperienza giusta, peraltro le squadre che ne sono davanti secondo me sono anche più forti della Lazio, come Piazza della Rosa, come qualità dei singoli, come l'anno scorso secondo me la Lazio non può veramente prescindere da Ciro Immobile, l'anno scorso hanno pagato caro l'assenza nel finale di stagione, Caicedo non è minimamente alla sua altezza e quest'anno non si è trovato il suo sostituto, ci sono giocatori che possono sostituire Luis Alberto che quest'anno non ha reso secondo le aspettative, hanno trovato in Correa un ottimo sostituto, ma non c'è un sostituto degno di Immobile, questa alla fine alla lunga la paghi. Dopo sentiremo un contributo che di fatto ricalca quello che hai detto proprio in questo tuo intervento, prima però sentiamo le parole del Presidente Lotito che comunque continua naturalmente a credere nell'obiettivo Champions League. Guardi, io penso sempre che stiamo parlando di una competizione sportiva, dove non ci giochiamo la sopravvivenza dell'essere umano, ci giochiamo un risultato, un risultato che nella vita può essere importante, ma non indispensabile, il cui raggiungimento deve essere solo il coronamento di un percorso intrapreso durante il campionato e soprattutto di un'organizzazione che è riconosciuta a tutti come la migliore. Quindi io mi auguro che prevalga il migliore come dovrebbe avvenire nel mondo del calcio, nel mondo dello sport e se, come ritengo, la società Lazio ha messo in capo tutto quello che poteva mettere in termini di organizzazione e soprattutto di potenzialità, se riuscirà a svilupparle e a realizzarle, io penso che sarà in grado di confrontarsi alla pari con tutti. Allora Lazio inevitabilmente sono mancati fino a questo momento, ormai siamo a stagione inoltrata, ci si avvia verso la fine dell'annata, sono mancati big su tutti i Milinkovic, Savic, anche nell'ultima partita contro la Fiorentina il suo contributo è stato assolutamente impalpabile, è mancata anche la continuità dei risultati, la continuità all'interno della partita stessa. Ed è tutto vero, però io non sono troppo d'accordo con l'analisi di Gaetano. La Lazio è una squadra che è cresciuta molto nell'ultimo mese e mezzo dal punto di vista del gioco, a Firenze contro la Fiorentina è mancata solo la vittoria, ma nel primo tempo ha dominato la Lazio, avrebbe meritato più e più volte il raddoppio rispetto alla scorsa stagione, che fu una stagione in cui la Lazio chiuse di fatto in caduta libera, poi arrivò l'eliminazione ma era una Lazio che non ne aveva più, questa mi sembra una Lazio che sta arrivando al rush finale in crescendo, ora chiaramente non è la favorita e il ragionamento è giusto, è sempre una squadra un po' al di sotto, un gradino al di sotto rispetto alle prime 4-5, a questa squadra manca sempre qualcosa, però in Zaghi in vista del rush finale, secondo me spostando Luisa Alberto come mezzala, Milinkovic è vero, un passo indietro con la Fiorentina, ma è un giocatore che nell'ultimo mese è cresciuto molto in questa Lazio, sta ritrovando anche Ciro Immobile che è andato a segno, poteva segnare di più, però non è ancora al 100%, secondo me è una squadra che nel rush finale potrà dire la sua, poi chiaramente parte indietro rispetto alla Roma, rispetto all'Inter, rispetto al Milan, però è una squadra che anche fisicamente secondo me all'ultima fase del campionato sta arrivando bene. È vero che è cresciuta, però l'impressione è che manchi sempre un po' di cinismo a questa squadra rispetto alle avversarie, soprattutto rispetto alle squadre che sono in lotta per la Champions League, crea molto, l'abbiamo visto non soltanto nella partita con la Fiorentina, ma anche in altre circostanze, per esempio anche in Coppa Italia contro il Milan ha costruito tante palle e gol, però poi è mancata la zampata per poter vincere, per poter portare a casa l'intera posta in palio. Torniamo ad occuparci, come stiamo facendo il resto fino a questo momento della Lazio, attraverso un altro contributo l'intervista che abbiamo realizzato con Riccardo Cucchi, che tra l'altro è anche un tifoso bianco-celeste. Sì, purtroppo inutile, sia per la Lazio che per la Fiorentina, che aveva ovviamente ambizioni di tazzamento Europa League. Quel pareggio non serve a nessuno delle due, io credo che la Lazio nel primo tempo avrebbe avuto la possibilità, per la molla di gioco espressa, direi anche per la qualità del gioco, di chiudere la partita. Non c'è riuscita, è un po' il difetto della Lazio, che a volte quando specialmente gioca bene si specchia un po' in se stessa e la grinta, il carattere, la determinazione, Muriel, della Fiorentina hanno consentito a Iola di raggiungere i pari. Io credo che sia molto difficile, il risultato di ieri ha allontanato le speranze e i sogni della Lazio di raggiungere in quarto posto, ma aggrado una partita da recuperare, le avversarie che sono prima della Lazio sono più forti. Insomma, quindi è d'accordo con te, caro Gaetano Cucchi, quando dice che le squadre che stanno davanti alla Lazio sono più forti? Sì, effettivamente la Roma e il Milan hanno speso anche molto di più della Lazio e giustamente hanno anche più pretese, più aspettative, quindi la Lazio comunque se andasse in Champions League sarebbe un grande successo, però credo le manchi ancora qualcosa. Eh sì, poi il mercato non ha aiutato certo la Lazio. Beh no, direi di no. Poteva fare qualcosina in più, è chiaro che poi poteva essere difficile poter prevedere questa lunga serie di infortuni, però magari un colpo in più poteva anche essere piazzato. Ma quello senza dubbio, è una squadra che la scorsa estate non si è rinforzata e non si è rinforzata nemmeno a gennaio, nel resto l'abbiamo visto, serviva da novembre un esterno destro, una lunga trattativa con il Chelsea per provare ad acquistare Davide Zappacosta, poi nelle ultime ore di mercato arriva Romolo, con tutto il rispetto per l'Italo-Brasiliano, però l'impressione è che sia sempre un po' un mercato a risparmio, quello della Lazio, questo alla lunga non paga per colmare quel gap con chi è davanti. Siamo ai saluti, grazie a Ramon Duna Gistis e grazie a Gaetano Mocciaro, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti